Il magazine Che Futuro l'ha inserita tra le 100 donne più influenti nel settore digitale, eppure il Corriere della Sera la colloca nella top 10 delle donne high-tech. Diamo il benvenuto a Sonia Montegiove. Grazie. Benvenuta. Dunque, lei è una programmatrice informatica, ma è molto attiva nel campo della divulgazione del settore digitale. Sì, nel mio tempo libero, da anni, mi occupo di divulgazione nell'ambito dell'informatica e delle nuove tecnologie. In particolare, in questi ultimi mesi, l'ho fatto con un'associazione della quale sono presidente, che è Libre Italia Ollus, che ha sede a Perugia, ma opera nel territorio nazionale, e opera appunto a favore della diffusione della cultura digitale, che rappresenta ormai uno strumento indispensabile anche per le fasce più deboli per emergere o comunque per lavorare. Certo, sottolineiamo il fatto che il suo impegno di divulgazione è un impegno extra lavorativo, però lei nella classifica figura vicino alla manager di Facebook, no? Sì, questa è stata una grandissima soddisfazione, perché è un messaggio che possiamo dare a tutte le persone che vogliono fare attività volontaria, che si può emergere anche in questo settore, che è importante, e che la condivisione della conoscenza e quindi il mettere a disposizione degli altri il proprio tempo libero ripaga di quello che è il sacrificio che poi si fa. Ecco, questo ci porta a questo aspetto anche ad un passo in avanti. Esiste una questione di genere nel settore digitale? Sì, la classifica è stata un po' così, un modo per portare alla luce una problematica che è reale, e cioè il fatto che le donne nel settore dell'IT sono poche, sono poche ai convegni, sono poco invitate, partecipano poco quindi, ed è un peccato proprio perché le donne hanno un punto di vista importante anche nella progettazione delle nuove piattaforme digitali o dei nuovi servizi digitali. Cioè le donne che utilizzano il web lo utilizzano spesso in maniera diversa o con finalità diverse rispetto all'uomo. Sicuramente sì. È per questo che è importante avere una quota, diciamo, rosa, no? Esatto, non è tanto una quota di genere quanto proprio la presenza di un approccio diverso di utilizzare le tecnologie e di utilizzare i servizi digitali. Ha una finalità di approfondimento anche questo aspetto, diciamo? Sicuramente sì, sicuramente sì. Bene, bene. Grazie, grazie dunque a Sonia Montegiove.